Se volete, il problema della lavagnetta è che io mi faccio tutti gli schemi prima e quando poi li devo ricreare me li sono scordati. Avrei bisogno di una seconda lavagnetta per poter copiare la prima lavagnetta. Ho avuto un colpo di genio. Salve a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti a questo nuovo video. Video che sarà bello bello complesso, dato che essenzialmente cercherò di andare a risolvere un po' tutti i casini temporali di Avengers Endgame. E quindi, sì, spoiler. Ma prima di cominciare con le teorie e speculazioni voglio mostrarvi questa nuova maglietta di pampling appena uscita, interamente a tema Avengers Endgame, anche abbastanza spoilerosa per certi versi, quindi a vostro rischio e pericolo. Però è davvero fantastica. Vi lascio il link in descrizione e ovviamente usando il codice caralotto avrete uno sconto del 15%. Dunque, disclaimer, grosso quanto, l'astronave di Thanos che ancora non si capisce come sia arrivato fin lì. O per meglio, in questa parte del video, poi lo spiego. Questo video è interamente fuffa, è interamente inutile da un punto di vista tecnico. In quanto i viaggi nel tempo di Endgame non sono stati pensati perché avessero una logica scientifica o qualcosa del genere, anzi, spesso vengono anche quasi definiti magia. Il regno quantico è imprevedibile, non segue delle regole fisse, ed è una cosa che ci è stata ripetuta più volte anche all'interno del film. È impossibile fare un discorso che figlia la perfezione. E inoltre i fratelli russo hanno già dato numerose risposte dopo il film, che però a me non è che abbiano soddisfatto più di tanto. Non tutte almeno. Perché, hey, sono Kalel, e ossessionarmi sulle trame impossibili dei film fantastici cercando di farli quadrare è letteralmente il mio lavoro. E infatti quello che andrò a fare in questo video non sarà tanto cercare di spiegarvi il modo in cui effettivamente funzionano i viaggi nel tempo all'interno del film, perché da quel punto di vista non so neanche se sia possibile, ma piuttosto cercherò di darvi una mia personale interpretazione che riuscirebbe a far quadrare il tutto, ma che dubito fortemente sia stata usata nel film, cioè non ne ho idea perché non abbiamo come avere una conferma effettiva. Ma che andrebbe così a risolvere i cosiddetti buchi di trama e tutte le incongruenze e i paradossi che, a detta di molti, si sarebbero venuti a creare. Ah, e io nel mentre cercherò di buttarci un po' di scienza scientifica, però in realtà non va presa come tale. È quasi più un modello su cui basare le mie idee, perciò non prendetela la lettera, anche perché dalla mia esperienza di liceo scientifico sono stato prima andato tutti gli anni di matematica e fisica, quindi non penso di essere la persona adatta per fare teorie matematiche effettive. Detto questo, cominciamo dall'inizio e cominciamo effettivamente spiegando come funziona il viaggio nel tempo all'interno di questo film, perché dovremmo andare per gradi, dovremmo fare un po' una costruzione. Questo video sarà un po' abbastanza lungo, abbastanza complesso, quindi vi invito caldamente a prestare attenzione. Sì, sembra quasi una lezione scolastica. Cominciamo in maniera molto easy, creando un semplicissimo grafico spazio-tempo. Ipotizziamo che il normale scorre del tempo sia rappresentato da una linea perfettamente bilanciata tra lo spazio e il tempo. Questo è il normale andamento del tempo nella nostra realtà e in tutte le realtà. La ragione per cui gli esperimenti iniziali di Bruce Banner non funzionano è perché Bruce, senza quasi neanche rendersene conto, non sta seguendo questa regola banale, non sta guardandosi allo spazio e al tempo, ma solo al tempo. Lui per l'appunto cerca di far viaggiare Scott attraverso lo spazio-tempo, ma fino all'ultimo non si accorge che in realtà lo sta spingendo solo attraverso il tempo e non attraverso lo spazio. Il che vuol dire che noi possiamo immaginare Scott come essere fermo, ma che viene continuamente sballonzolato avanti ed indietro nel tempo. Questa è la ragione per cui prima arriva come un bambino, poi ritorna come invecchiato, poi un bebè, perché lui letteralmente sta facendo avanti e indietro sul tempo, senza però proseguire nello spazio. Quindi semplicemente lui sta fermo, ma il tempo agisce su di lui, in maniera positiva invecchiandoli, in maniera negativa ringiovanendolo, penso. Possiamo immaginare che Scott venga catapultato nel Regno Quantico, ma una volta lì, senza una direzione da seguire, senza sapere dove andare, semplicemente rimane fermo immobile, ma il tempo continua a fare il suo corso, in maniera molto particolare perché per l'appunto nel Regno Quantico il tempo segue un po' le regole che vuole. Ed è qui che entra in gioco Tony Stark, portando quella che è la sua invenzione, ovvero un bracciale GPS che traccia la tua posizione nello spazio-tempo. E questo bracciale è capace di puntare la direzione verso la quale ti stai indirizzando, nello spazio-tempo, nel Regno Quantico. E infatti, per come l'ho intesa io, per il ragionamento che sono andato a fare, credo che nel Regno Quantico lo spazio e il tempo si applichi in maniera leggermente diversa. Nel senso, lo spazio indica effettivamente il tuo spostamento nel Regno Quantico, ma il tempo non indica il lasso temporale in cui tu arriverai e sbuccherai fuori, ma il tuo tempo, letteralmente l'età che tu mantieni. Facciamo un esempio più pratico. Prendiamo in considerazione tre date. L'anno 2000 è il nostro presente, il 1950 è il passato e il 2050 è il futuro. Noterete che ho messo gli anni sull'asse dello spazio e non su quello del tempo, pur trattandosi effettivamente di anni. Questo perché secondo me loro, quando viaggiano nel tempo, devono impostare la loro destinazione d'arrivo nello spazio intesa sia come luogo geografico, sia come la data in cui vuoi uscire, e devono impostare contemporaneamente il tempo per indicare l'età che loro vogliono mantenere. Se Scott, partendo dall'anno 2000, diciamo che lui abbia 30 anni, voglia arrivare al 2050 rimanendo esattamente della stessa età, gli stessi 30 anni rispetto a quando è passato, lui dovrà seguire praticamente in linea retta l'asse del tempo. Cioè lui dovrà rimanere esattamente a quel tempo, non deve assolutamente cambiare. Ma lui contemporaneamente potrebbe voler arrivare nel 2050 invecchiato oppure ringiovanito. Sull'asse dello spazio percorre sempre la stessa distanza. Quello che cambia è il tempo che lui ha, lui stesso, la sua stessa età rispetto a quando arriva. Ovviamente questa cosa può funzionare anche all'indietro perché può tornare nel passato invecchiato, ma può tornare anche nel passato ringiovanito. Quello che il bracciale di Tony deve fare è bloccare la tua età perché altrimenti tu potresti sbucare dall'altra parte terribilmente invecchiato con le tue ossa che ormai sono polvere oppure terribilmente ringiovanito nel senso che sei un embrione e non puoi esistere. Ma soprattutto il bracciale ti permette di impostare delle determinate coordinate nel tuo universo d'arrivo. Perché di questo che dovevamo parlare? Di multiversi, della teoria del multiverso che per certi versi si applica a questo concetto. La ragione per cui fino a questo punto ho insistito sul fatto che il viaggio nel tempo in realtà si sposti attraverso lo spazio e non attraverso il tempo va a ricercarsi nel fatto che questo a tutti gli effetti non è un viaggio nel tempo ma è tecnicamente un viaggio nel regno quantico che funziona un po' come un corridoio che collega il tuo presente con il punto in cui vuoi arrivare che sia nel futuro, nel passato oppure anche nel presente in un posto però diverso. Immaginate il regno quantico come un palazzo dai piani infiniti a una quantità infinita di piani diversi. Nel regno quantico per l'appunto i vari piani rappresentano il luogo geografico in cui vuoi arrivare ma su ogni singolo piano c'è una quantità infinita di porte dove ogni porta corrisponde esattamente ad un millisecondo diverso nel quale tu vuoi uscire in quel determinato luogo geografico. Ve lo spiego con un esempio più pratico. Facciamo finta che siano le due di notte io abbia fame ma il che babbaro ormai è chiuso. Dunque quello che io devo fare è entrare nel regno quantico e sbucare dalla mia stanza al che babbaro però alle ore 21 cioè 5 ore prima nel passato. Una volta entrato nel regno quantico io dovrei cercare il piano corrispondente alla locazione fisica proprio dove si trova il mio che babbaro e una volta individuato dovrei cercare la porta esatta che corrisponde alle ore 21 00 0 minuti e 0 secondi perché io volendo potrei prendere una qualsiasi altra porta e magari sbucare alle 23 oppure sbucare 500 giorni prima perché la singola porta indica l'esatto istante in cui tu vuoi uscire in quel preciso luogo. Ed è per questo che il viaggio nel tempo va ragionato dal punto di vista dello spostamento nello spazio perché fisicamente tu nel regno quantico devi spostarti in questa massa uniforme e trovare la tua uscita ideale. E questo può avvenire perché per definizione nel regno quantico le leggi dello spazio e del tempo non sono le stesse che nella realtà ma seguono dei principi totalmente sbarrellati. Nel film vediamo che gli Avengers partono per la loro missione coordinandosi tutti quanti attivando tutti quanti contemporaneamente la loro tuta che li rimpicciolisce loro poi entrano a livello subatomico nello spazio-tempo e lì nel film li vediamo che proprio fisicamente navigano questo flusso dello spazio-tempo uscendo in punti diversi il che per l'appunto conferma la mia teoria delle porte perché li vediamo davvero gli Avengers che cercano il punto esatto in cui sbucare fuori. E sappiamo che poi per tornare indietro devono usare le fiale rosse che contengono le particelle PIM che per come l'ho intesa io almeno funzionano come carburante per le tute che viaggiano nel regno quantico tu per fare un salto per andare nel passato o tornare nel futuro per ogni salto temporale chiamiamolo così consumi il 50% di questa fiaschetta di questa particella PIM. Essenzialmente al momento della partenza uno seleziona sul proprio bracciale le coordinate della porta e del piano dalla quale lui ha intenzione di uscire la tuta lo guida praticamente in maniera automatica attraverso il regno quantico verso quella determinata porta e poi lui fuoriesce nel passato, nel presente o nel futuro dipende da dove vuole andare e poi per tornare indietro fa la stessa cosa impostando però come punto di arrivo il loro presente il punto da cui sono partiti e ognuna di queste cose per l'appunto consuma il 50% di particella PIM. Ma allora, e qui arriviamo a uno dei grandi dubbi che sono rimasti dopo la visione del film come ha fatto la nebula cattiva, la nebula del 2014, a portare l'intera flotta di Thanos, tutta la sua nave e ogni suo singolo cadetto per dire così, se in realtà lei la sua particella PIM l'aveva già usata per tornare nel futuro? Ed è qui che sta la risposta. Quella non era l'unica particella che loro avevano a disposizione. Quello che è molto semplice da scordare mentre guardiamo il film è che noi in realtà non sappiamo esattamente quando la nebula cattiva abbia deciso di tornare nel futuro cioè perché noi sappiamo che tutti gli altri personaggi sono partiti appena hanno finito la loro missione ma su nebula non ci viene detto cioè lei sarebbe anche potuta partire nel 2016 tanto sarebbe arrivata, cioè sarebbe anche potuta partire 5 ore prima perché tanto sarebbe arrivata sempre nello stesso punto quello che io infatti penso che sia successo è che nebula si sia attardata a partire e ci sia voluto un po' di tempo per studiare le particelle PIM perché, cavoli, voglio dire, la flotta di Thanos è una flotta che ha una tecnologia aliena che è anni luce davanti alla nostra se Hank PIM è riuscito negli anni 70 con i computer che manco avevano i primi modelli di microprocessore con la tecnologia umana dell'epoca a creare le particelle PIM figurati se uno che guida un'astronave grande come una città non abbia qualcuno lì qualche mago di corte, qualche scienziato che sia capace di riprodurla in massa quindi alla fine quando loro tornano io sono sicuro che ogni singola persona ogni singolo elemento della truppa di Thanos avesse una singola particella PIM a testa perché l'hanno proprio prodotta in massa quello che nebula ha fatto semplicemente è tornata nel presente per impostare le coordinate di arrivo per il Thanos del passato perché il Thanos del 2014 non sapeva da quale anno provenissero gli Avengers non sapeva dove doveva arrivare per fermarli lì c'è stata nebula che ha impostato il tutto sul computer e ha detto ok vieni in questo esatto punto della Terra nell'anno 2023 infatti si può intuire che i bracciali o le tute o comunque ci siano a qualche tipo di tecnologia che comunica addirittura attraverso lo spazio-tempo perché quando gli Avengers fanno i test per il viaggio nel tempo e mandano indietro Clint questo viene poi risucchiato indietro nel presente tramite un comando che viene dato da Bruce Banner dal computer perché non è Clint che sceglie di tornare in tempo lui stava correndo verso sua figlia e poi all'improvviso viene richiamato indietro il che vuol dire che effettivamente si può comunicare attraverso il tempo si può comunicare con il passato cioè più che comunicare puoi dare l'ordine puoi mandare dei dati nel passato e far comunicare non lo so i due computer dunque per quel che mi riguarda il mistero della nave di Thanos si può considerare risolto ma se fino a questo punto abbiamo parlato della metodologia dei viaggi nel tempo arriviamo ora alle implicazioni che riguardano il flusso vero e proprio del tempo quando Bruce si reca dall'antico per prendere la gemma del tempo questi gli illustra quella che è una delle regole basilari di questo film ovvero che le varie gemme dell'infinito compongono il flusso del tempo che loro conoscono quello c'è come dire il flusso originale che da questo punto in avanti indicherò così con la lettera O il flusso originale sono gli eventi che effettivamente sono successi fino a quando loro non sono tornati indietro del tempo dall'inizio dell'MCU proprio fino alla fine fino a quando hanno ucciso Thanos fino al salto di 5 anni in avanti quella è la linea originale ma l'antico per l'appunto spiega che se si vanno a rimuovere le pietre dell'infinito dalla linea originale questa linea comincia ad aprirsi e si va a sfociare in degli universi paralleli in delle realtà parallele, dei flussi temporali diversi ora non andrò a ricostruire l'intero schema del viaggio del tempo che hanno fatto perché per questo video non ci serve piuttosto andrò a focalizzarmi sui singoli problemi che ci sono stati e i cosiddetti paradossi che la gente ha individuato e partiamo da quella che è la più importante regola in questo universo ovvero che il passato una volta che è successo una volta che è effettivamente il tuo passato non può essere più cambiato e Bruce lo spiega fin da subito se viaggiaste nel passato quel passato diventerebbe il vostro futuro e il vostro ex presente diventerebbe il passato che non potrebbe essere cambiato dal vostro nuovo futuro sì, uno scioglilingua, non l'ho imparata a memoria essenzialmente qualsiasi cosa che succede nel passato rimane tale e questa è anche la ragione per cui per esempio come dice Rodi non possono andare semplicemente ad uccidere il Thanos bambino perché in quel caso si verrebbe semplicemente a creare una realtà parallela dove Thanos effettivamente non è mai esistito non è mai cresciuto però sarebbe una realtà parallela rispetto alla realtà o alla realtà originale in quell'originale semplicemente Thanos ha sempre fatto esattamente le stesse cose non sarebbe cambiato assolutamente nulla e questo vuol dire che ogni interazione dei personaggi con il passato crea nuove linee temporali se queste interazioni vanno a cambiare il corso del tempo anche in maniera minima Clint nel primo test che fanno prende un guantone da baseball dal passato e lo riporta nel presente già questo tecnicamente avrebbe creato ha fatto diventare quel passato in cui lui si trovava prima una realtà parallela perché lui ha cambiato qualcosa cioè metti caso che magari il figlio perdeva tempo per cercare il guantone da baseball correva per strada e veniva investito cioè quel semplice piccolo dettaglio poteva cambiare tutto Captain America che combatte con se stesso nel passato e gli rivela che Bucky in realtà è ancora vivo crea una realtà parallela Loki che ruba il tesseract e riesce a scappare crea un'altra realtà parallela Bruce spiega all'antico che ha intenzione di ritornare poi una volta finito il tutto nel passato e rimettere le gemme a posto così che non succeda nulla ed effettivamente è quello che Steve fa alla fine del film torna indietro nel tempo per rimettere ogni gemma al suo posto originale ma questo non cancella le altre realtà che ormai si sono create semplicemente impedisce che il flusso del tempo confluisca in quella direzione vi faccio un esempio Bruce che chiede la gemma del tempo all'Eterno nella linea originale che abbiamo visto la linea O la gemma è rimasta all'antico fino a che lei non l'ha passata Stephen Strange che poi l'ha usata per sconfiggere Dormammu e essenzialmente salvare il mondo nel momento in cui l'antico consegna la pietra a Bruce il flusso temporale è tecnicamente ancora lo stesso o per meglio dire lo è in potenza il che vuol dire che potenzialmente può ancora essere lo stesso se Steve riconsegna la gemma prima del 2016 l'anno mi sembra in cui è ambientato Doctor Strange e l'anno in cui per l'appunto lui la userà per sconfiggere Dormammu tecnicamente la linea rimane la stessa se non gliela consegna o gliela consegna dopo quella data quello che succede è che si crea un nuovo flusso temporale che diventa la stessa realtà questo perché la pietra almeno per quel che ne sappiamo noi non sarà fondamentale fino al 2016 dunque loro che la prendono nel 2012 sono fuori dal perimetro temporale chiamiamolo così in cui quella pietra diventa fondamentale dunque se semplicemente riportano la pietra prima di entrare in quel perimetro temporale allora la linea O rimane intatta rimane la stessa perché tutto è andato al suo posto tuttavia l'incidente di Loki che prende il Tesseract e scappa avviene dentro il perimetro temporale che riguarda quel determinato fatto il che vuol dire che si crea un'altra realtà parallela quella in cui Loki ha rubato il Tesseract che però rimane lì per sempre anche se alla fine Steve ritornerà indietro e metterà le gemme al loro posto semplicemente quello che farà sarà impedire che il flusso temporale che ora converge in questa realtà di Loki dove lui ha rubato il Tesseract semplicemente il flusso temporale ritornerà a essere quello originale ma questa realtà si sarà già creata e per la legge che ci è stata introdotta sul fatto che il passato non può essere cancellato non può essere cambiato quella realtà in cui Loki ha preso il Tesseract continuerà ad esistere in maniera distinta in una realtà parallela però adesso esiste questo dettaglio questa regola del passato che non può essere cambiato è la ragione per cui nell'MCU non si applica il paradosso del nonno il paradosso del nonno suppone che un nipote torni indietro nel tempo uccida suo nonno e quindi tecnicamente impedire che lui stesso poi sia nato il che vorrebbe che lui non riuscirebbe mai ad fare il viaggio nel tempo per tornare indietro perché non è mai nato e quindi tutto questo diventa un paradosso senza senso tuttavia nell'MCU questa cosa non esiste perché effettivamente il nipote che torna indietro nel tempo e ammazza il nonno semplicemente vuol dire che lui crea una realtà diversa dove suo nonno è morto e in questa realtà lui effettivamente non nascerà mai però lui comunque nella realtà originale è sempre se stesso e suo nonno è ancora vivo anche se l'ha ammazzato perché suo nonno è morto nell'altra realtà nella sua, nella sua realtà originale è ancora vivo e vegeto e questo ci porta come avrete intuito alla questione di nebula che uccide se stessa la nebula del presente quella buona uccide la nebula del passato quella cattiva e apparentemente questa cosa non ha alcun tipo di conseguenza e non a caso il fatto che nebula muoia nel 2023 il fatto che la nebula del passato muoia nel 2023 non fa alcuna differenza perché lì sono già fuori dal loro perimetro temporale cosa intendo dire? linea temporale oh questo è il 2014 quello che intendo dire è che quando la nebula buona si trova nel passato nel 2014 quando c'è quel malfunzionamento che l'altra nebula quella del 2014 si trasforma essenzialmente in un proiettore umano è quello il perimetro temporale importante ed è quella la chiave di tutto quanto perché è in quel momento che si crea una realtà parallela ve lo spiego molto facilmente ma come dicevo questa è la linea temporale O quella dove il piano di Thanos si è compiuto tutto quanto è la storia che abbiamo visto fino a questo punto bisogna individuare due punti precisi nel 2023 il punto P che intende la partenza cioè il momento in cui gli Avengers tornano indietro nel tempo è essenzialmente subito dopo il punto R cioè il punto in cui loro ritornano dal loro viaggio nel tempo c'è Hulk che schiocca le dita e mette tutto a posto questo qua è il 2023 nel 2023 dal punto P i nostri eroi tornano indietro nel tempo e nebula torna al 2014 e qui avviene il suo malfunzionamento il che vuol dire che si crea in quel momento in quando c'è il malfunzionamento una nuova linea parallela che chiameremo la realtà X in cui effettivamente Thanos scopre la verità scopre appunto che gli Avengers nel futuro stanno cercando di evitare che lui abbia distrutto tutto quanto che lui abbia schioccato le dita e questa è la creazione di una nuova realtà parallela perché Thanos che scopre queste cose diventa una nuova realtà parallela la realtà parallela appunto dove la nebula buona viene fatta prigioniera da Thanos e da tutti gli altri ma siccome quella che poi torna alla fine è la nebula cattiva e la nebula della realtà X cioè è lei che alla fine non si sa quando torna al punto R insieme a tutti gli altri Avengers la nebula cattiva il che vuol dire che è permesso il viaggio attraverso due realtà distinte perché lei dalla realtà X torna alla realtà O quella originale e infatti poco dopo segue anche Thanos con la sua flotta e anche la nebula buona perché appunto come abbiamo detto prima la nebula cattiva gli dà le coordinate gli passa le coordinate e lui quindi da una realtà parallela salta all'altra questo è un dettaglio davvero fondamentale tutto quello che succede da questo punto in poi dal punto R in avanti quello è il presente quello diventa il loro presente e da lì le leggi del passato non si applicano quello è il presente tutto quanto può succedere da quel punto in poi perché tutto quello che succederà diventerà il passato dunque quando la nebula buona uccide se stessa siamo già dopo il punto R quindi tutto quello che succede è la realtà effettiva non si crea nemmeno una realtà parallela perché? perché loro ormai sono fuori da questo periodo temporale il periodo temporale del 2014 che era quello fondamentale per la nebula del passato se loro avessero ucciso nebula del passato nel 2014 si sarebbe creata un'ulteriore realtà parallela ma il fatto che loro la uccidano nel presente quando tutto quello che succede è giusto è possibile non crea alcun tipo di paradosso e per quello che abbiamo spiegato prima per la legge per cui non si applica il paradosso del nonno la nebula originale cioè non ha alcuna conseguenza perché tecnicamente quella che ha ucciso non è la nebula che noi conosciamo è la nebula della realtà X ma tenetevi forte perché adesso arriva il vero colpo di scena adesso ci addentriamo davvero nelle cose più incredibili tutto quello che è successo tutti i casini temporali le varie realtà parallele che sono create fanno in realtà parte dello stesso piano dello stesso gioco gigante tutte queste cose che sono successe erano necessarie perché questo piano arrivasse a compiersi e non mi riferisco al fatto che Stephen Strange Dr. Strange avesse visto tutto quanto mi riferisco proprio alla struttura stessa del tempo perché adesso di questo che dobbiamo parlare dobbiamo capire qual è il modello su cui si basa il flusso temporale il tempo in questo film prima di tutto dobbiamo stabilire quale sia il perimetro temporale da prendere in analisi ed è presto fatto si tratta dal periodo che va dal 2012 al 2023 lo so che loro tornano poi ancora più indietro tornano addirittura agli anni 70 ma questo succede come conseguenza dell'incidente di Loki che avviene del 2012 quindi il punto di partenza in realtà rimane comunque il 2012 ora solitamente i viaggi nel tempo vengono rappresentati tramite un cerchio prendiamo per esempio ritorno al futuro dal punto A di partenza Marty torna indietro nel tempo al punto B fa quello che deve fare e poi ritorna al punto A dunque un semplice cerchio questo tuttavia dando per scontato che tutto quello che tu hai fatto non abbia creato dei casini temporali ma soprattutto che non abbia creato una realtà parallela ritorno al futuro infatti si basa su una stronzata perché tecnicamente nel momento in cui Marty incontra sua madre si dovrebbe creare una realtà parallela e per l'appunto questo non è il caso di questo film perché come abbiamo detto si crea una realtà parallela che addirittura va a collidere con la realtà originale per l'appunto dovessimo rappresentare il tutto con un cerchio sarebbe impossibile perché partiremo dal punto A arriveremo al punto B però poi dato che si crea una realtà parallela si andrebbe da tutt'altra parte non hai come rappresentarlo come un cerchio perché devi tenere conto anche di quella realtà parallela X che va a collidere con la realtà O ed è qui che entra in nostro aiuto lo stesso Tony Stark che all'interno del film menziona seppur in maniera molto rapida e veloce il modello su cui si basano i viaggi nel tempo ovvero il nastro di Mobius so che voi ora direte che cazzo è il nastro di Mobius allora le superfici che noi vediamo nella vita di tutti i giorni hanno almeno due facce se noi prendiamo questo foglio c'è la facciata anteriore e quella posteriore tecnicamente noi possiamo percorrere una sola facciata perché poi per passare alla facciata dietro uno deve superare un bordo deve superare un limite cioè deve tipo scavalcare il foglio nel caso del nastro di Mobius questa regola non si applica perché c'è una sola facciata un solo bordo che può essere percorso continuamente senza mai dover scavalcare alcun limite ve lo spiego molto facilmente realizzandone uno perché basta prendere una qualsiasi striscia basta piegare di 180 gradi uno dei vertici e poi unirli mettilo a fuoco ce la fai? per certi versi ricorda quasi un 8 quasi il simbolo dell'infinito è un po' difficile da spiegare dato che è un concetto molto astratto ma la cosa affascinante è che appunto tecnicamente questa figura può essere percorsa in un'unica direzione dopo aver percorso uno dei bordi ci si ritrova dall'altra parte è soltanto percorrendolo di nuovo che si ritorna al punto originale quindi effettivamente si può passare dalla facciata davanti a quella dietro senza dover attraversare alcun bordo ma semplicemente continuando ad andare avanti ora ritorniamo al nostro viaggio abbiamo detto che non possiamo rappresentare il viaggio con un cerchio per via della realtà parallela X che si è creata nel 2014 ed è quello il punto chiave di tutto quanto quel 2014 perché alla fine tutti gli altri universi paralleli quando Steve torna a mettere le pietre a posto si distaccano rimangono isolati continuano ad esistere ma sono isolati la realtà X invece no perché per l'appunto siccome poi Thanos viene teletrasportato nella realtà O le due vanno a collidere ora dovrò fare una cosa difficile ovvero disegnare il nastro di Mobius per farvi comprendere il mio ragionamento ora facciamo tre punti 2012 2014 2023 partiamo dal 2014 originale dove effettivamente gli eventi seguono il loro corso Thanos vince schiocca le dita e tutto quanto quindi dal 2014 seguiamo il corso arriviamo al 2023 nel 2023 gli Avengers tornano nel 2012 per cercare di sistemare le cose ma quando la missione di Nebula fallisce nel 2014 il cerchio anziché chiudersi prende una un'altra svolta perché si crea la realtà X che porta tutti quanti nel 2023 dove poi Thanos il Thanos del 2014 quello della realtà X viene sconfitto tuttavia qui il cerchio non si chiude perché perché loro hanno ancora le gemme dell'infinito che hanno sottratto nel passato dunque Steve deve tornare nel 2012 e dal 2012 puoi mettere tutto a posto e ritornare a portare l'ultima gemma nel 2014 chiudendo effettivamente soltanto qui il cerchio che si è aperto inizialmente perché non è un cerchio unico non è un solo ciclo ma sono due che si ripetono e sono connessi tra di loro per cui un nastro di Mobius è la cosa più incredibile che tutto accade percorrendo un'unica direzione per via della proprietà appunto unica del nastro di Mobius il nastro di Mobius permette che due realtà distinte si sovrappongano in quanto fanno parte della stessa realtà è soltanto tutto un ciclo lungo che si ripete è per questo che dobbiamo usare il nastro di Mobius perché dobbiamo far incastrare tra di loro alla perfezione ben due cicli temporali quella che dal 2014 originale fa tutto il giro e torna indietro dove si crea la dimensione X e poi quella che la rimette a posto ritornando fino al 2014 quando Steve rimette le gemme a posto questo spiega facilmente anche perché Gamora sia morta nel primo ciclo ma sia viva nel secondo perché non dobbiamo parlare di due cicli non dobbiamo parlare di passato presente e futuro ma è tutto un gigantesco ciclo che va ad appunto inglobare in sé due periodi temporali distinto distinti vabbè lo so che è un discorso molto difficile spero di essere riuscito a farmi capire il più possibile ma effettivamente è un po' complesso spiegare i viaggi nel tempo però penso di penso che abbia senso cioè almeno dal mio punto di vista ha senso e Cap dunque com'è possibile che alla fine di tutto sia lì e lo vediamo invecchiato dunque le possibilità sono due cioè in realtà una però facciamo finta che siano due il Cap che vediamo invecchiato potrebbe essere quello della linea originale che semplicemente è tornato indietro nel tempo ha vissuto la sua vita in disparte con Peggy e poi semplicemente è arrivato qui ha aspettato che il se stesso del passato tornasse indietro e poi si è fatto vivo questo però vorrebbe dire che tecnicamente lui è riuscito ad avere una vita perfetta dove non ha mai interagito con nessuno del suo passato e non ha mai creato nessuna realtà parallela il che ovviamente è impossibile perché perché lui ha vissuto poi la sua vita con Peggy Carter quindi ha interagito con una delle persone più importanti del suo passato l'altra possibilità quella più plausibile è che effettivamente lui quando è tornato indietro nel tempo ha creato una realtà parallela una realtà parallela dove entrambi dove due Captain America hanno vissuto in contemporanea non abbiamo idea di cosa sia successo lì magari sono successi dei casini incredibili lui ovviamente non ce lo dice ma per la regola che abbiamo detto prima è possibile il che vorrebbe dire che il Captain America che noi vediamo alla fine è il Captain America che è tornato dalla realtà parallela che lui stesso ha creato tornando nel tempo cosa che sappiamo essere possibile dato che appunto Thanos ha viaggiato attraverso due realtà diverse basta semplicemente usare il regno quantico e uscire dalla porta giusta questo tra l'altro spiegherebbe anche come mai lui abbia con sé lo scudo nuovo di Zecca quando invece l'abbiamo visto distrutto da Thanos poco prima perché probabilmente nell'universo parallelo da dove lui proviene Thanos non ha mai distrutto il suo scudo o ne ha fatto uno nuovo cioè ce ne sono mille di possibilità e questa è la spiegazione secondo me più logica e onestamente quella che d'ora in poi prendere in considerazione perché mi sembra l'unica possibile spiegazione molti si chiedono perché non abbia salvato Natasha ma è presto detto perché prima di tutto non può in quanto è un evento fisso nel passato e soprattutto perché poi si verrebbero a creare altre realtà parallele dove chissà soltanto cosa potrebbe succedere anche perché per il modo in cui funziona la gemma dell'anima qualcuno deve sempre sacrificarsi per prenderla quindi in ogni caso cioè al massimo potevano scambiarla con un altro eroe ma qualcuno sarebbe comunque morto per esempio Gamora sono riusciti a salvarla perché non hanno salvato la loro Gamora la Gamora della realtà O lei è comunque morta esattamente come sono date le cose perché il passato non può essere cambiato quella che hanno loro è la Gamora della realtà X quindi al massimo quello che potrebbero fare sarebbero portare da loro una Natasha di un'altra realtà però ovviamente sarebbe un casino perché andrebbe a rovinare tutto quanto in quella realtà stesso ragionamento anche per Visione la sua morte è un punto fisso nel passato che non può essere cambiato e il martello di Thor molti mi avete chiesto ma non ha fatto casino Thor quando l'ha richiamato magari lo stava usando no perché l'ha richiamato in quel momento esattamente perché sapeva che il sede del passato in quel momento non lo stava usando e il martello è stato via per pochi secondi tecnicamente perché Thor l'ha richiamato ma poi quando Steve è tornato indietro l'ha portato con sé e l'ha rimesso a posto probabilmente poco dopo che Thor l'ha richiamato dunque cioè alla fine è stato via da quell'universo per qualche manciata di secondi e questo tecnicamente dovrebbe andare a spiegare bene o male tutte le incongruenze più grandi perché con il modello del nastro di Mobius si riesce a spiegare tutto almeno da quel che mi è parso di vedere perché come dicevo anche all'inizio alla fine tutto questo ragionamento tutto questo discorso è un po' fuffa e si basa sul nulla dato che gli stessi fratelli russo hanno detto di non provare troppo a spiegare le cose perché non ci si riesce ma hey interrogarmi sulle cose impossibili è trovare risposte alla mia passione più grande quindi eccoci qua probabilmente ho detto una marea di bagianate sul nastro di Mobius perché è un argomento molto complesso che mi sono dovuto cercare di studiare un po' da solo quindi sono sicuro che qualcuno più esperto nei commenti mi dirà che ho sbagliato tutto e lo invito caldamente a farlo perché alla fine è anche questo il bello delle teorie bello fare teorie ma fanno anche smontate laddove c'è bisogno anche se come dicevo io ho detto un sacco di cose ma guardate l'idea più che effettivamente l'applicazione scientifica perché magari qualcuno di voi adesso mi dirà eh ma no lo spazio-tempo non funziona e lo so ma non sono un professore di fisica quantistica ad Harvard quindi provo a fare quello che so con le mie competenze sperando di riuscirci al meglio comunque ovviamente adesso io vi invito caldamente a dirmi la vostra davvero ragazzi sono curioso di sapere cosa ne pensate rispetto a questa mia teoria del nastro di Mobius secondo voi funziona secondo voi fa acqua da tutte le parti è una stupidaggine ditemi la vostra e ditemi le vostre teorie o se magari trovate un modo per aggiustare quello che ho detto io basandovi su questo modello ragazzi tiriamo fuori il meglio di noi tiriamo fuori il meglio di essere nerd strebbe bene come slogan per la mia futura campagna politica inoltre se mi sono dimenticato qualcosa se mi sono scordato qualche grosso buco di trama o roba del genere perché è possibile scrivetelo nei commenti e proverò a rispondervi ovviamente applicando questo modello ragazzi io sono un po' sudatino adesso perché ho fatto fatica con questo video cercare di spiegare in maniera semplice dei concetti così complicati nella mia testa non è cosa semplice quindi spero davvero di essere riuscito a farmi capire al meglio ma ripeto se avete dubbi scrivetelo nei commenti e vi saprò dire meglio io vi invito caldamente a seguirmi su instagram così almeno rimanete aggiornati con tutto quanto dato che li spoiler ho sempre un po' di cose faccio domande quiz ho bisogno di sapere cose se mi discordo qualcosa vi uso un po' come come base rafforzativa per ricordarmi le cose vi ringrazio tantissimo per tutte le risposte che mi date che ormai non riesco più a starci dietro però va bene io come al solito vi ringrazio caldamente per avermi seguito fino alla fine di questo video abbastanza incasinato spero vi sia piaciuto probabilmente forse un po' più avanti cercherò di fare anche un video per parlare di cosa succederà adesso rivolgere un po' lo sguardo al futuro dell'MCU ma quello arriverà più avanti per adesso vado a riposare ciao a tutti ragazzi ciao a tutti ciao a tutti